Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla drammatica situazione che vive l'ecnossofappa di Gela. C'è il rischio concreto che si perdano 40 posti di lavoro, cancellando un pezzo di storia della città dell'azione educativa dei Salesiani. La vicenda è stata affrontata ieri nella conferenza dei capigruppo preseduta da Alessandrasia. È stato deciso di convocare una seduta straordinaria, monotematica del Consiglio Comunale, alla presenza dell'assessorato alla formazione della regione e dei vertici salesiani. C'è il rischio concreto di perdere 40 posti di lavoro, cancellando un pezzo di storia dell'azione educativa dei Salesiani. È drammatica infatti la situazione che sta vivendo il cnossofappa. A seguito di una procedura di mobilità avviata dai salesiani, numerosi dipendenti gelesi rischiano seriamente di rimanere disoccupati. Altri invece, tra i pochi fortunati che non perderanno il posto di lavoro, saranno costretti ad andare in altre sedi siciliane, probabilmente rimpiazzati da colleghi provenienti da Ragusa, Palermo o Catania. In queste condizioni il cnosso di Gela, indipendentemente da chi resterà o da chi andrà via, rischia seriamente di avere vita molto breve e di scomparire per sempre. È il risultato di una trattativa regionale che vedrà il licenziamento di 134 persone su base regionale con una buona parte legata al nostro sito. In questa maniera rischiamo di perdere la nostra peculiarità, che è quella della saldatura, della tubisteria e della ristorazione, perché quasi buona parte di tutti gli istruttori verranno licenziati, ma chi resterà appiccicato andrà possibilmente a lavorare presso altre sedi. Questo qui, anche perché hanno chiuso due sedi, quelle di Catania, di Mister Bianco e di Ragusa, Gela rimarrà, ma rimanere a queste condizioni significa sicuramente fra qualche mese chiusura totale. Venendo meno i formatori che conoscono bene il territorio, quindi le problematiche e le criticità che ci sono nel nostro territorio, quindi da qui a breve tempo si potrebbe verificare la chiusura quasi totale dell'Indecnos, che ad oggi, diciamo, quei formatori che hanno formato ed educato le migliori maestranze che noi conosciamo, tra saldatori, termoedralici, elettrici e ristorazione, verrebbe meno. Quindi si verrebbe a perdere quella formazione, ma anche quel rapporto che si è creato anche col territorio, con i giovani che si metterebbero nelle strade, quindi creando anche della microcriminalità, dando un danno ulteriore al territorio che ormai è martoriato da mille difficoltà. La vicenda del Cnoss è stata affrontata ieri nella conferenza dei capigruppo preseduta da Alessandra Acia. È stato deciso di convocare una seduta straordinaria monotematica del Consiglio Comunale alla presenza dell'assessorato alla formazione della Regione e dei vertici salesiani. La seduta è prevista per la prossima settimana. Cambiamo argomento. È stato rintracciato e denunciato a piede libero dai carabinieri di Gela l'uomo che ieri ha coltellato due operai impegnati nei lavori per il passaggio della fibra ottica nel quartiere Settefarine. Si tratta di un gelese di 41 anni. L'accusa è di lesioni e porto ingiustificato di arma. Sono stati alcuni testimoni a confermare l'identità dell'aggressore che ha agito utilizzando un coltellino che attualmente non si trova. L'uomo si è scagliato contro i due operai che lo avevano invitato ad arrestare la marcia della sua auto per consentire l'esecuzione dei lavori. I due operai, soccorsi in ospedale, fortunatamente non sono gravi. E ora parliamo della proposta avanzata dai consiglieri comunali di Reset 4.0, Caruso e Didio di istituire a Gela un tavolo di lavoro permanente per monitorare spese, opere, progetti e durata degli interventi previsti nel patto per la Sicilia che interessa anche la nostra città. Istituire un tavolo di lavoro permanente per monitorare spese, opere, progetti e durata degli interventi previsti nel patto per la Sicilia. E' quanto chiedono al Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Gia, e alla Sindaco di Gela, Domenico Messinese, i consiglieri comunali di Reset 4.0, Francesca Caruso e Luigi Didio. A Gela, così come stabilito dal Premier Matteo Renzi, dovrebbe arrivare un decimo delle risorse stanziate nel patto che sarà destinato a finanziare progetti infrastrutturali. Dovrebbero arrivare tanti soldi, lo speriamo. Oggi c'è il balletto dei numeri, ci sono naturalmente partiti politici di governo sia nazionale che regionale e fanno il balletto dei numeri, ma ad oggi dati certi non ci sono. Noi vogliamo istituire un tavolo immediato affinché intanto conoscere le risorse che proprio sono su Gela e poi fare in modo che queste risorse non vengano perse. Il Partito Democratico sottolinea che arriveranno realmente tanti soldi proprio per l'economia gelese, che soffre maledettamente. Il Partito Democratico dice che arriveranno 500 milioni di euro, ma ricordiamo che 250 milioni di euro saranno per l'autostrada Siracusa-Gela che finirà a Ispica, non arriverà a Gela. Poi 125 milioni sono sulla Santo Stefano di Camastra-Gela, ma che partirà da Santo Stefano di Camastra e arriverà ad Aggira e quindi non sono veramente ricadute sul territorio. Poi arriveranno a meno sul Patto per il Sud, sono state concertate su Gela circa 90 milioni di euro, escluso il megaporto di cui parla Crocetta, che verificheremo. Vogliamo proprio il tavolo per capire se queste risorse ci sono veramente e come poterle utilizzare senza farle disperdere. Il consigliere di Reset 4.0 interviene anche sulla firma posta martedì a Palermo sui lavori che interesseranno il porto rifugio di Gela. Avere un porto fruibile significa fare in modo che i pescatori ritornino a lavorare e fare in modo che, così com'è, possa essere utilizzato al meglio. Questo è un punto d'inizio perché ora bisogna capire quali sono i tempi certi che non sono stati dati sul tavolo regionale. Invece, tornando al tavolo tecnico che voi cercherete di istituire, quale sarà il primo obiettivo da raggiungere? Capire quali sono veramente i cantieri subito da mettere in campo, se ci sono dei progetti da completare che vengono fatti immediatamente e quindi pungolare sia l'amministrazione locale quella regionale affinché questo venga fatto. Noi vogliamo che i soldi su Gela non vengono dispersi. Poi vogliamo che anche concertare con la società civile, ma anche con le forze economiche del territorio, come devono essere spesi 32 milioni di euro e fare in modo che gli 11 milioni di euro delle compensazioni minerarie non vengano perse. E tornando all'argomento porto rifugio di Gela, CGL e Cisle Will prendono atto del risultato ottenuto alla Presidenza della Regione. Le sigle sindacali non giudicano i tanti entusiasmi letti e ascoltati e ricordano ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese che 32 milioni di euro di compensazioni sono contenuti nel protocollo e tra le priorità individuate vi è l'opera di ripristino e modifica del porto rifugio. Può apparire e si può vendere, dicono i sindacalisti all'opinione pubblica, ciò che non è. Può trasformarsi un atto di normalità istituzionale in grande vento come se Gela sta per diventare Dubai. Un po' di sobrietà non guasta mai a maggior ragione se si investe l'opinione pubblica su un tema così importante come il futuro economico della città. Oggi Gela e il Sud hanno bisogno di concretezza, sobrietà e coerenza. La domanda di oggi è una, dicono Ignazzo Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania. Inizieranno entro quest'anno i lavori, la città dovrà attendere altri 23 mesi per un altro progetto esecutivo pur avendo a disposizione da anni i 32 milioni di eni. Di questo e non altro le istituzioni, chiude la nota delle sigle sindacali, dovrebbero preoccuparsi con il dovuto rigore consono ad uno Stato che funziona. Da un ventennio circa le strade rurali di Gela non hanno manutenzione, eppure gli interventi erano una parte fondamentale del programma del Movimento 5 Stelle. Questo quanto sottolineano i consiglieri comunali pentastellati, Virginia Farruggia, Angelo Amato, Enzo Giudice e Simone Morgana. Attraverso una mozione i consiglieri grillini chiedono al sindaco e al Consiglio Comunale di non farsi sfuggire all'occasione di partecipare ai bandi europei. Uno dei bandi prevede il finanziamento per gli enti pubblici che copre il 100% del costo di realizzazione con una dotazione finanziaria di 76 mila euro. I consiglieri chiedono di attivare immediatamente tutte quelle figure professionali all'interno del Comune di Gela che possano in tempi generi far partecipare l'ente comune al bando. Le domande di finanziamento possono essere inoltrate dal primo novembre al 20 dicembre prossimo. Considerato i livelli di disoccupazione che i cittadini ingelesi stanno vivendo in tutti i settori, dicono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, il comparto agricolo risulta essere trainante per la città con una occupazione di più di 5 mila unità lavorative oltre l'indotto. Un vero e proprio tsunami politico anniscemi. La bocciatura del conto consuntivo 2015 da parte di sette consiglieri ha di fatto decretato il terremoto nella sede civica, tutti a casa i 20 componenti del Consiglio Comunale. I consiglieri che hanno detto no al rendiconto finanziario sono Francesco Alesci, Gianluca Cutrona, Giacomo Gagliano, Giuseppe Manduca, Salvo Lupo e Giuseppe Rizzo, tutti i consiglieri d'opposizione. Il conto consuntivo adesso dovrà essere approvato da un commissario ad acta nominato dalla Regione. Sono state rilevate numerose criticità, spiegano i sette consiglieri, ecco perché lo abbiamo bocciato. Le modifiche al servizio di gestione dei rifiuti sono state riviste con due delibere datate 18 agosto 2014 e 14 gennaio 2015, con quest'ultima sottolineano che produce effetti retroattivi, si rileva un comportamento contabilmente non corretto o illegittimo. Il Consiglio Comunale, sottolineano ancora, dovrà inoltrare tutti gli atti al Prefetto e al Ministero degli Interni per far sì che venga inviata la Commissione di accesso per la verifica della legittimità degli atti deliberativi della Giunta Municipale. Quest'amministrazione comunale, rimarcano, sta avviando il nostro ente ad un default finanziario con anticipi di cassa di 3 milioni e mezzo e un milione e mezzo la copertura del Governo per il pagamento dei debiti verso le imprese, per un totale complessivo di 5 milioni che dovrà recuperare per il bilancio previsionale 2017. Sempre sette consiglieri evidenziano che oltre al danno c'è la beffa, una gestione politica amministrativa che non ha prodotto né crescita né sviluppo, ma solo debiti su debiti. L'importante però aggiungono che le feste siano sempre presenti. Sulla vicenda è intervenuto anche il PD di Niscemi, dopo anni in cui ogni azione del Consiglio Comunale è stata disattesa, dopo i mancati depositi delle relazioni annuali, dei bilanci approvati a Capodanno e dell'evidente situazione comatosa che vive la città, si è consumata l'ultima perla di questa amministrazione comunale che rimarra nella storia come la più fallimentare di sempre. Il PD, doveva analizzato la relazione del Collegio dei Revisori, evidenzia che gli atti relativi ai famosi premi alla ditta dei rifiuti sono contabilmente non corretti e che l'amministrazione comunale ha fatto pagare 170 euro al giorno di interessi ai cittadini niscemesi perché ricorre sempre ai prestiti delle banche invece di prodigarsi nello stanare gli evasori e tutelare così i cittadini virtuosi che pagano. Tutto questo, dicono il Presidente Francesco Di Dio, il segretario Enzo Salvo e il capogruppo consigliare Gianluca Cutrona ci hanno indotto a dire basta, andiamo a casa. Non riteniamo più tollerare questa gestione scellerata ed una maggioranza che non c'è e non esiste e che non è in grado di risolvere neanche il più piccolo dei problemi. Niscemi e niscemesi meritano di più. Un protocollo di intesa è stato sottoscritto tra l'Università Uniterma Sapienza ed il Comune di Gela. La proposta, concepita dalla sede gelese dell'Ateneo, coordinata dal docente di politiche economiche internazionali Alessandro Morselli, è pensata per attivare percorsi di supporto alla riconversione della raffineria tradizionale in bioraffineria. Il trend, dice l'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Siciliano, oramai ci indica di orientarci verso un modello di economia circolare basato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale che limiti la dipendenza da materie prime fossili. In questo quadro, ha aggiunto Siciliano, la nuova normativa europea obbliga ad impiegare prodotti di derivazione biologica nei carburanti convenzionali. Pertanto la riconversione degli impianti diventa una priorità strategica attraverso un percorso diretto alla produzione di biodiesel alla luce del modello sperimentato a Porto Marghera. Per alcuni impianti di Gela, oramai dismessi, ha detto invece Morselli, l'obiettivo dovrebbe essere quello di riconvertire l'attività alla realizzazione di un prodotto ecosostenibile operando in armonia con il territorio e la comunità giurese. Nei ultimi anni l'Italia ha considerato un apprezzabile know-how subica biocarburanti pronto ad essere sfruttato ed implementato. Prosegue l'azione di ammodernamento e potenziamento complessivo delle strutture a servizio della rete idrica di Gela. Caltacqua ha infatti avviato negli ultimi giorni le operazioni tecniche di sostituzione dei contatori vecchi con strumenti nuovi, prodotti di ultima generazione che consentono misurazioni di assoluta precisione. Complessivamente in questa fase sono 2468 i misuratori che i tecnici stanno provvedendo a sostituire in diverse aree dell'abitato gelese. Si tratta di oltre 260 tra strade, piazze, vicoli e larghi. La campagna di collocamento dei nuovi misuratori rappresenta un altro passo che Caltacqua sta compiendo nell'ambito di un progetto di più ampio respiro che riguarda l'intero territorio della provincia di Caltanissetta. Anche a Caltanissetta i volontari di Abbio hanno incontrato i bambini, genitori e non solo, in uno stand allestito in piazza Garibaldi, così come è accaduto in altre 150 piazze italiane, coinvolgendo ben 5.000 volontari in occasione della giornata nazionale Abbio. L'Associazione per il bambino in ospedale Onlus è sempre alla ricerca di nuovi volontari. In programma infatti a Caltanissetta un corso di formazione martedì 27 settembre. Un cestino di pere è stato il simbolo di questa giornata nazionale, giunta alla sua dodicesima edizione e a cui è stato conferito un grande riconoscimento per il servizio svolto dei volontari Abbio, e cioè la medaglia del Presidente della Repubblica. Una giornata dunque, durante il weekend, dedicata ai bambini, ma che permette ai volontari di raccontare l'attività svolta da Abbio dal 1978 all'interno degli oltre 200 reparti di pediatria degli ospedali italiani. Oggi è la giornata nazionale, appunto come dicevo, Abbio, siamo presenti in 150 piazze in tutta Italia per far conoscere la nostra realtà, la realtà Abbio. Abbio è associazione per i bambini in ospedale. Siamo presenti, siamo questa associazione per donare, regalare e dare sollievo ai bambini, ma anche ai genitori, che così da vivere i bambini vivono l'esperienza e il ricovero dell'ospedale abbastanza traumaticamente. Noi siamo presenti in reparto per dare un po' di sollievo e far dimenticare momentaneamente il ricovero in ospedale. L'obiettivo di questa giornata è la vendita delle pere simbolica, che serve per la raccolta fondi, che serve per uno sostenerci e un altro per formare altri volontari, perché siamo ancora presenti a Caltanissetta da due anni, questo è il secondo anno nostro con la giornata nazionale di Abbio in piazza qui a Caltanissetta e stiamo anche cercando nuovi volontari. Il corso nuovo formativo parte il 27 settembre, siamo presenti in ospedale Sant'Elia nella palazzina D. Devo aggiungere che la fondazione Abbio Onlus esiste dal 1978, è stata fondata a Milano e a Caltanissetta siamo presenti in pediatria, fortemente voluta dal dottore Cavalere, il primario pediatria. Noi volontari Abbio andiamo in ospedale, nel reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta una volta a settimana. Cosa facciamo durante le nostre ore di volontariato? Stiamo accanto ai bambini, cerchiamo di far fare loro delle attività ludiche, cerchiamo di giocare con loro, fare dei laboratori, cerchiamo anche di stare accanto ai genitori, semplicemente ascoltandoli e dare loro il nostro supporto. Sono in pagamento al Comune di Gela i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014. Lo rende noto l'assessore comunale ai servizi sociali e all'istruzione Licia Abela. I beneficiari degli aventi diritto per riscuotere la somma dovranno recarsi agli sportelli della banca Unicredit muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, seconda parte del telegiornale. Mercoledì 12 ottobre è l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio di protocollo generale del Comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico. Nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Femmina Morta, Roccazzelle e Borgo Manfria. Termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si riegano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado. Anche quest'anno, sabato 1, domenica 2 e martedì 4 ottobre, in concomitanza con le celebrazioni del Dono Day 2016, istituito dal Parlamento italiano, torna in 5.000 piazze italiane la Mela di Aism. L'iniziativa di solidarietà che si svolge sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica ed è promossa dall'associazione italiana Sclerosi Multipla e dalla sua fondazione FISM nasce per garantire sostegno alla ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla. A Gela i volontari saranno presenti in Piazza Umberto I, Ospedale Vittorio Emanuele, Supermercato Crai in Via Palazzi e Via Venezia, Supermercato Deco in Viale Corte Maggiore e Via La Paz, Supermercato Paghi Poco in Via Mozart, Chiese San Domenico Savio, San Giovanni Evangelista, Regina Pacis, Santa Lucia, San Francesco e Chiesa Sant'Antonio, Attività Commerciale, Piazza Italia e Ai Muretti di Macchitella. Ma vediamo lo spot realizzato per l'occasione. Di fronte alle sfide della vita non è importante solo vincere, ma non smettere mai di combattere. Contro la Sclerosi Multipla ogni traguardo raggiunto è una conquista. AISM è con le persone che lottano ogni giorno per garantire i diritti, per moltiplicare i successi della ricerca, per dare a tutti la possibilità e la forza di scegliere, di condividere le proprie emozioni, i propri sogni, le proprie storie e per raggiungere nuovi, incredibili traguardi. Sono ancora disponibili pochi posti per le iscrizioni all'ultimo corso SAB ex REC dell'anno 2016, valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive sarà avviato il prossimo 10 ottobre. Si svolgerà presso la sede della Conf Commercio Ascom Gela in via Cicerone 104. Gli interessanti dovranno effettuare l'iscrizione presso la segreteria della Conf Commercio Ascom Gela dalla lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. E adesso occupiamoci di calcio, oggi parliamo del Gela, abbiamo sentito il tecnico dei Biancazzurli, Pietro Infantino. Io credo che ogni domenica avremo un esame da superare e noi ci prepariamo per questo. Ancora il campionato non è entrato nel vivo, sicuramente abbiamo messo un mattone importante perché dare continuità ai risultati, dare continuità alle prestazioni è sempre un lato positivo. Noi continuiamo a lavorare, sapendo che questo campionato è molto, molto difficile e sapendo che le avversarie, anche come domenica, questo Gragnano che è partito male però ha una squadra importante per questa categoria. C'è Conate, c'è Santaniello, c'è Martone, c'è Tabascio che è squalificato. Sono giocatori importantissimi per queste, le napoletane si sono tutte attrezzate per fare un campionato di vertice ma noi vogliamo fare la nostra parte, siamo convinti di avere delle qualità e la qualità più importante secondo me è questa voglia di far parlare di sé, di essere un gruppo compatto, un gruppo che si vuole sacrificare per questa società, per questa maglia ma soprattutto per se stessi, credo che l'orgoglio personale va oltre alle cose. Noi continuiamo così con grande serenità, con grande voglia di lavorare per ottenere qualcosina. Io dico sempre, noi dobbiamo lavorare per far parlare di noi. E se vogliamo domenica prossima la terza trasferta consecutiva perché arrivavate dalla vittoria conquistata in trasferta con i due torri. Avete giocato sul campo neutro di Leonforte anche se in casa dunque in trasferta e adesso arriva un'altra trasferta nel napoletano. Sì, sicuramente il Presti è... Quando ho presentato alla squadra il progetto infantino, il progetto Gela Calcio al primo posto ho messo la curva Angelo Boscaglia e il Presti. Credo che quella è la forza di questo gruppo di lavoro perché credo che noi abbiamo formato un'unione importante per superare scoglio dopo scoglio questo campionato. Credo che il Presti per noi, questo gruppo che ci viene sempre a sostenere, deve essere una forza che ci fa... Dico, una forza che ci dà la forza per far uscire qualcosina in più da noi e credo che noi ci prepariamo per affrontare partita dopo partita. Sicuramente le trasferte sono tutte difficili, però ho detto sempre di lavorare su noi stessi, dobbiamo avere un'identità di gioco, dobbiamo avere un'identità di intensità di gioco, dobbiamo avere quella caratteristica di aggressione all'avversario, di giocare molto alti, di giocare sempre una fase molto propositiva, se no non puoi essere protagonista in questo campionato, non puoi essere il Gela. È scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 all'antidoto di Macchitella a Gela. Il cartellone che comincerà il prossimo 23 novembre prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco per informazioni e rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 3 3 8 7 1 4 3 2 9 3 3 3 0 2 2 5 4 4 2, c'è anche un numero di telefono fisso, 0 9 3 3 8 2 2 7 0 7. Abbiamo concluso anche per oggi, vi ricordiamo che i servizi e le notizie potete consultarli attraverso il nostro sito internet, tg10.it. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.